Questa sera sono state gettate le basi della nuova società dell'APD San Maurizio. Il Comune di San Maurizio sicuramente da sempre ha sempre dato un grande contributo alle società sportive. In particolar modo l'APD che è una realtà locale dove oggi ospita tanti bambini e questo è importante per le attività sportive e per cui noi loro hanno bisogno oggi di strutture perché sono carenti oggi con tanti ragazzi. Noi ci stiamo adoperando con la Giunta e tutto di creare una struttura nuova di spogliatoi per dare la possibilità ai ragazzi di usufruirle. Siete andati un po' controcorrente rispetto alle altre società calcistiche della zona e volete fare tutto da voi. Volete avere un prodotto praticamente in casa. Qual è la differenza abissale? Guarda Cristiano, nel mondo del calcio, particolarmente in questi ultimi anni, si sono improvvisate moltissime scuole calcio. Questo perché nel mondo del calcio, soprattutto nella scuola calcio, c'è un'attenzione particolare ai bambini perché questo portano delle risorse fondamentali all'interno della società. Noi abbiamo controtendenza, pensato di mettere degli obiettivi, partendo dalla base, quindi dalla scuola calcio e il settore giovanile, cercando di reinvestire quelle che sono le risorse che generano queste attività proprio su di loro. Siamo ancora incerti rispetto a quello che succederà per la prima squadra. Se troveremo investitori e quindi avremo la capacità di confezionare un budget ad hoc, allora se ne potrà parlare, altrimenti ciò che verrà generato dalle scuole calcio e dal settore giovanile servirà proprio per queste attività. Dopo 15 anni sei tornato in sela alla B di San Maurizio. Che effetto ti fa? Beh, devo dire, è molto emozionante. Un ritornare a casa, come ho voluto dire. Io ho vissuto tanti anni in questa struttura. Ho aiutato la società a nascere, da quando era decaduta poi l'era pellegrino. Mi ricordo ancora le riunioni in comune, avevamo un campo con l'erba altissima e da lì abbiamo iniziato a gettare le basi per far diventare il San Maurizio di oggi. Grazie. Grazie. Grazie.